Gentili telespettatori, buona Giovanna, non buona Giovanna, non buona Giovannona, ma buona giornata. Poi salutiamo tutti i Giovanni, le Giovanne, le Giovannoni, i Giovannoni. Siamo ad 8 e mezzo, che è alle 8 e mezzo. Televisione La 7 di sinistra, programma 8 e mezzo di sinistra, conduttrice di sinistra Lilli Gruber, ospite di sinistra Travaglio. E al completo. E lì si lanciano gli anatemi contro i governanti destrosi. Dice che questo voto può essere un ostacolo per la destra. Sono elezioni locali, quindi ha vinto Todde perché è stata ritenuta più adeguata dai Sardi a governare la Sardegna. Sì e no. Ha vinto Todde perché una gran parte del centro-destra ha votato per ripicca un altro candidato perché era stato imposto un candidato che non doveva essere imposto. Quindi sul fatto che i Sardi hanno reputato più adeguata la Todde... Marco Travaglio dice così in collegamento con Lilli Gruber a 8 e mezzo e dice Allora io credo una cosa Io credo, mia opinione personale, che la Lega abbia fatto perdere le elezioni in Sardegna perché la Meloni non ha voluto dar retta a Salvini e mettere un leghista eccetera eccetera ha voluto la Meloni imporre il suo candidato io credo che la Lega abbia voluto fargliela pagare come dire Ah sì? Tu comandi? Adesso ti facciamo vedere noi che non siamo un partito fantoccio. Probabilmente la Lega non immaginava che veramente ci sarebbe riuscita credo che anche Salvini sarà rimasto di sasso quando ha visto che realmente il candidato imposto dalla Meloni aveva perso che il centrodestra ha preso il 48,6 e il candidato ha preso il 45 quindi vuol dire che la destra ha stravinto in Sardegna ma ha perso il presidente della regione questo vuol dire che che è successo qualcosa vuol dire che quella vendetta è andata a buon fine a meno che la Lega non centri proprio nulla e gli elettori di destra della Sardegna proprio questo qua non ne volevano sentir parlare perché lo pensano che pensavano che era assolutamente negativo per la regione io tendo più a pensare la prima cosa quella della vendetta della Lega e credo che anche Salvini sarà rimasto a bocca aperta e avrà detto hai capito non avrei mai immaginato che davvero tutti i leghisti andassero a votare per qualcun altro che croce sulla Lega e poi su un altro candidato ecco Salvini dice adesso alzo la voce e sul terzo mandato il Veneto perché questo giochino che ha fatto la Lega si può assolutamente riproporre in Veneto cioè la Lega può dire piuttosto che dare il Veneto a Fratelli d'Italia lo diamo alla sinistra chiaro il concetto? guardate che Salvini è l'avversario interno al governo alla Meloni voi sapete che gli elettori della Meloni in gran parte erano leghisti che si sono spostati con la Meloni quindi Salvini nella sua mente sa che la Meloni gli ha portato via tutto l'elettorato e che lui doveva essere il premier e è diventato lei perché i leghisti sono andati con lei poi tra virgolette Salvini dovrebbe chiedersi come mai il mio elettorato è scappato in massa con la Meloni? se lo è chiesto Salvini questo si è seduto sul suo tavolo in silenzio con le luci soffuse e dice adesso devo capire perché il mio elettorato se n'è andato l'avrà mai fatto? attenzione tu come capo politico probabilmente tu come tutti gli altri capi politici sono troppo pieni presi da sé io sono il migliore io il capo è difficile che facciano un'autocritica ci vorrebbe qualcuno di fidato che gli dica guarda che hai sbagliato questo 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 però chi è il fidato che si mette di fronte Salvini a dirgli guarda che tu queste cose che hai sbagliato ed è per questo che hai perso l'elettorato difficilmente un capo politico accetta una cosa del genere però qualche domanda dovrebbe farsela Salvini a se stesso come mai passo dal 35% all'8% deve essere successo qualcosa o la Meloni è un dio in terra un politico super e io non sono al suo livello oppure successo oppure la mia politica e il modo di presentarmi all'elettorato quello che dico che faccio che penso eccetera eccetera non è propriamente cioè fa scappare la gente ecco e l'effetto domino in altre regioni potrebbe essere dato proprio da questo dal fatto che i litigi all'interno del centro-destra portino a queste vendette tra partiti certo che già questo è stato problematico se nel centro-destra cominciano con queste cose non so poi se arrivano a fine legislatura perché Salvini qualche governo l'ha già fatto saltare ecco ospite ospite del talk show c'è anche Alessandra Todd la nuova presidente della Sardegna che dice i cittadini sardi avevano bisogno di un cambiamento non credo di aver battuto Giorgia Meloni ma i sardi soffrono per i servizi che non ci sono e lei è venuta a ridicolizzare il fatto che noi avessimo parlato di antifascismo invece di parlare dei problemi della regione e aggiunge lei mi ha chiamato e abbiamo parlato di dossier urgenti che devono essere chiusi per la Sardegna io sono la presidente di tutti i sardi ed è importante per me che qualsiasi finanziamento possa arrivare alla mia isola attraverso il governo nazionale perché la Meloni onestamente giustamente correttamente l'ha subito chiamata dicendo vediamo che cosa si può fare subito per la regione dammi inviami mandami tutto quello che è che secondo te c'è da fare urgentemente vediamo di farlo quindi insomma la Meloni si è messa subito a disposizione di una presidente di regione che ha appena detto che lei fa resistenza praticamente contro i fascisti che ci sono al governo e i fascisti l'hanno chiamata allora dimmi quali problemi hai che vediamo di risolverli ecco insomma il famoso livore e rancore di sinistra arrivederci a tutti e grazie